GX8RF, il video marketing da prima dell'evento dei social. Siamo stati tra i primi a credere in una piattaforma come YouTube e tanto è stato fatto per il scontro delle aperture e le gestioni dei singoli canali su questa piattaforma e dei maggiori social del momento. Sempre per la nostra clientela, come il susseguirsi dei contenuti e le loro sponsorizzazioni. Nulla si è evoluto così velocemente e radicalmente nel modo di fare comunicazione e commercio. Un'espansione che le aziende hanno attraversato e riscontrato, ma anche riconosciuto nel nostro staff sui privilegi di una comunicazione visiva, accattivante e dallo storytelling, narrativo e performante. Ad oggi c'è tutto di tutto sui social, ma il business e la concorrenza non guarda solo a visualizzazioni e a grafici che trovano il loro tempo. Ecco perché un'esperienza ampia di staff e di potessi team possono rivelarsi un profitto, un cambio di direzione, una gioia nel vedere le proprie energie diventare progetti concreti. Siamo la Dx8RF, uno staff completo sul video, pronti su tutta la richiesta attuale del momento che schiaccia la mediocrità con più contenuti video e meno advertising. Puntate ad una presenza video sempre nuova, fresca e meno promozionale, perché un pubblico Dx8RF non ha un qui the video cine tv con tanto scrolling e statistica, ma davvero pubblico affiliato.